Sindaco, dalla sua amministrazione la promozione per istituzionalizzare la festa dei figli. Si è accettato questo progetto di legge che si sta presentando all'attenzione del Presidente della Repubblica per dare una data che riconosca la collettività, la famiglia, i figli soprattutto. Certo, è importante specialmente per un paese piccolo come il nostro, cioè dove la famiglia ancora ha un ruolo, è un ruolo la famiglia ma hanno un ruolo anche in figli e quindi l'istituzionalizzazione della festa dei figli secondo me pare importante anche per un evento di socializzazione e comunque come amministrazione siamo molto sensibili a queste iniziative che vanno sul sociale anche perché ci fanno riprendere un pochettino dei valori che piano piano stanno diciamo in un certo senso scomparendo quindi su questo siamo molto sensibili, mi fa piacere che questa festa, questa sera è abbastanza, diciamo interessa un pochettino tutta la popolazione perché ho visto in questi giorni dell'organizzazione che sono un pochettino, sembra che molta gente sono, come dire, sono distaccati però poi quando si comincia a parlare di qualche cosa come questa che va anche sul sociale ci si rende conto che effettivamente poi questo distacco non c'è più. Oggi celebriamo la festa dei figli a Castelsilano, un comune periferico della provincia di Crotone un evento in Calabria quest'anno si tiene in questa spettacolare terrazza sulla provincia crotonese per sensibilizzare la comunità, la collettività, le istituzioni soprattutto sul rendere istituzione nazionale questa festa che ogni anno potremmo ripetere il 15 di giugno sono 12 anni che chiediamo con forza alle istituzioni, in particolare al Presidente della Repubblica attraverso testimoni agli importanti attori, cantanti, sportivi molto celebrati anche nel mondo tutti i soggetti che sono attenti a un messaggio particolare siamo tutti figli innanzitutto c'è una festa della mamma, c'è una festa del papà, c'è la festa dei nonni, c'è la festa della donna, dei lavoratori c'è una festa per ogni sentimento ma c'è soprattutto una cosa che contraddistingue tutti quanti noi siamo tutti figli, non necessariamente diventeremo genitori, madre, padre, quindi nonni ma siamo figli, figli di famiglie e quindi anche questo messaggio di portare avanti nella politica della famiglia l'attenzione verso i figli e poi siamo innanzitutto figli di una comunità